E' una copertura supplementare alla difesa che si scopre meno di tutte. Fin qui sono giunti i tifosi del Genoa. Celio si rivelerà un magnifico mediano. Svetta l'incitamento al Messina, ma non svetta il gioco della prima linea bianco scudata. Reme, ma non segna. Al ventesimo minuto il Genoa perde praticamente l'ala destra Colosio, vittima di uno strappo muscolare. Più grave l'infortunio che la priverà per l'intera ripresa di Cattani. Il numero 5 genoano ha riportato la frattura del setto nasale. Nel secondo tempo il Messina non riesce ad approfittare della superiorità numerica. Anche perché Franzosi e soprattutto Beccatini sfoggiano parate e interventi eccezionali. E gli assiste anche la fortuna come su questo tiro di testa di Colomban respinto dalla travessa. Ultimo minuto, ultima prudezza di Franzosi. Palla deviata in angolo con la punta delle dita. Lo 0 a 0 premia la resistenza del Genoa ma premia anche la difesa del Messina. Soltanto 5 gol in 15 partite.